Stiamo percorrendo tutte le strade a livello legale, a livello di sensibilità e a livello anche a questo punto di interloquire con l'attuale, finché ci sarà governo, perché è una corsa contro il tempo affinché possa fare un intervento immediato per così dire mettere una pezza se si riesce a quello che potrebbe essere la fine, a mio avviso purtroppo lo dico e lo ripeto, di decine di aziende radicate da decenni nel territorio. Una mobilitazione cittadina, una grande manifestazione che si svolgerà lunedì 16 aprile all'Aquila per dire no tutti insieme alla restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del 6 aprile 2009 e ora, come è noto, richieste dalla Commissione Europea che ha considerato la sospensione un vero e proprio aiuto di Stato. 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 Stato.